Il Miglianico batte 3-0 la Casolana e strappa il pass verso la finale dei playoff di domenica prossima sul campo dell'Ortona. Mennillo, Criscolo, Morelli, mattatori di una Casolana che esce comunque tra gli applausi. Venendo al match, Casolana con il 3-5-2, Barri inizialmente in panchina con il 2-3 dell'Hellis davanti assieme a Capuzzi. Miglianico con il 4-3-3, Morelli, Criscolo, Russo davanti. Parte benissimo la formazione di Mr. Bici, prima due occasioni, entrambe sui piedi di Arboleda che prima al sesto chiama Scucci Marra alla deviazione, poi richiede allo stesso portiere ex Casoli 1966 una smanacciata di ottima fattura per sventare il gran mancino. Al diciannovesimo punizione dalla destra tagliata con Cialini, tutto solo sul secondo palo che raccoglie il pallone ma scivola sul più bello. Nel capovolgimento di fronte Capuzzi tra le linee per la Morgia, face to face con Scucci Marra, ma destro largo e occasionissima svanita. Alla mezz'ora arriva il gol del vantaggio miglianichese, angolo dalla destra, buca la difesa della Casolana con Mennillo che sul secondo palo trova la deviazione vincente e fa 1-0. La reazione della Casolana non arriva, anzi il gol sembra aver spezzato le gambe dagli ospiti. Immagini e montaggio di Mario Giacchetta, il secondo tempo vede al quinto Di Moia servire ottimamente Criscolo che sfrutta l'incomprensione difensiva della Casolana. Si interpone tra portiere e difesa, salta Napoli e con il destro deposina in rete per il 2-0. La Casolana si scuote all'ottavo Arboleda, ci prova dal vertice sinistro dell'area, pallone fuori di poco. Ancora il numero 11, cross dalla destra, sinistro in diagonale che Sibila, vicinissimo al palo della porta. Difesa da Scucci Marra, il colombiano non esaurisce le cartucce, 31esimo punizione dalla destra, traiettoria sul secondo palo con il pallone che si stampa sulla traversa. Al 38esimo, gran discesa di Morelli sulla sinistra, semina tutti, prima di farsi male si presenta tu per tu con Napoli e lo batte con il destro per il 3-0 che chiude definitivamente i giochi. Parte la festa a Miglianico, domenica 22 maggio sarà tempo di finale. Miglianico, Casolana, 3-0. Mister, in realtà una partita che è iniziata forse con qualche timore. Meglio la Casolana, poi dopo il gol del vantaggio siete usciti, una grande reazione, 3-0, importantissimo soprattutto in chiave della finale. Sì, sì, sapevamo che affrontavamo comunque una squadra ostica. Arrivati a questo punto sono tutte squadre ben attrezzate, conoscevamo la loro forza. Abbiamo preparato la partita abbastanza bene, poi anche siamo stati forse un po' condizionati da una temperatura rovente, soprattutto nella prima frazione. Siamo entrati e abbiamo rischiato qualcosina nei primi 10-15 minuti, poi dopo la squadra comunque è venuta fuori, abbiamo trovato il gol che sicuramente ci ha spianato la strada. Abbiamo portato questo risultato a casa, siamo contenti perché i ragazzi lo meritano, si arrenano tanto, fanno tanti sacrifici dall'inizio dell'anno e questa vittoria se la meritano. Adesso ce la godiamo e da martedì prepariamo subito la partita della finale di questi spareggi del nostro girone. Mister Bisci, peccato probabilmente per quel blackout nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo e il primo del secondo, avete condotto una buona prima mezz'ora di gioco, avete creato poi dopo il 2-0. Vi siete risvegliati su tutti Arboleda che poi vorrei anche un suo commento su questo giocatore, appunto peccato per quei 30 minuti dove avete probabilmente perso la partita. Sì, peccato ma soprattutto per l'approccio che abbiamo avuto perché l'approccio è stato positivo, dovevamo concretizzare, non l'abbiamo fatto. Questa è una squadra al milianico che ha degli elementi validi però diciamo che noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Loro avevano due risultati e quindi hanno atteso, hanno saputo attendere e nel momento in cui dovevano colpire hanno colpito. Quindi io il blackout c'è stato sul secondo gol perché magari il giocatore mio, ripeto, c'è da fare solo i complimenti perché è un giocatore che si è adattato in quel ruolo quando ho perso di Giuseppe, il capitano, il centrale difensivo. E quindi Acani è un centrocampista che si è adattato in quel ruolo da quattro settimane e l'ha saputo fare. Purtroppo in quella situazione ha calcolato male, ma ci può stare e gli avversari sono stati bravi a punirci.